Vediamo adesso come montare il centro servizio ottico di edificio CSOE tramite il telaio C9 frame. Apriamo la confezione del telaio e tiriamo fuori le staffe, la bus accessori e le piastre metalliche. Tiriamo fuori dalla confezione il CSOE TV, apriamo lo sportello destro tramite la chiave esagonale in dotazione e tiriamo fuori la bus accessori. Subito dopo togliamo i coperchi alla base e alla sommità dello scomparto destro, questo ci servirà per far passare meglio le fibre da un CSOE all'altro. Facciamo la stessa operazione con il C9 CSOE. Fissiamo le staffe a parete e montiamo la piastra metallica se il totale dei CSOE da montare è 2. La piastra metallica non deve essere montata nel caso in cui sul telaio dobbiamo montare 3 CSOE. Posizioniamo il primo C9 CSOE in basso e lo blocchiamo alle piastre metalliche con le viti in dotazione. Poi posizioniamo il C9 CSOE TV in alto sopra tutti gli altri CSOE e lo blocchiamo alle piastre metalliche con le viti in dotazione. Facciamo attenzione di lasciare solo il primo coperchio in alto e l'ultimo coperchio in basso del lato destro di CSOE rimuovendo tutti quelli intermedi per permettere il passaggio delle fibre da un CSOE all'altro.